Oh, ehi, sei sveglia? Sono in un dormitorio. Sì, ti ho piegato i pantaloni. Grandioso. Amico, hai colpito o sei... Fermiamo l'inquinamento. Sei una troietta. Forse dovresti bere acqua la prossima volta. Sei di grande aiuto. Non fare tardi alla tua festa. Ok, ciao! Ciao! Tanti auguri, Tri. Mi hai spaventata. Ehi, sei sveglia? Guarda, so che tutto questo non ha molto senso. Fermiamo l'inquinamento. Mi sembra di stare impazzendo. Sei proprio una troietta. Tanti auguri. Io ho già vissuto questo giorno. Qualcuno mi ucciderà stanotte. Ora tu entrerai. Va tutto bene? Sto attento, sto attento, sto attento! Mettiamo che io creda che tutto questo sia possibile. Spruzzatori. Spruzzatori, allarme d'auto. Sembra che tu abbia una quantità illimitata di vite. Illimitate chance di risolvere di risolvere il tuo omicidio. Quindi dovrei continuare a morire per scoprire chi è il mio killer. Tu vuoi vivere per vedere domani. Chiunque ti stia uccidendo sa che è il tuo compleanno. Praticamente tutta la scuola. Questi sono i segni di un trauma importante. Dovresti essere morta. Riesci a vivere lo stesso giorno più volte e cominci a scoprire chi sei veramente. Riesci a vivere lo stesso giorno più volte. Riesci a vivere lo stesso giorno più volte.